Altra novità in edicola, Extreme Treasure, scava il forziere e trova i due splendide pietre da collezione. Allora, la collezione è composta da questi scrigni, vediamo se riusciamo a estrarne uno con difficoltà, li ha premuti proprio bene bene, dove ci sono delle pietre favolose, in più ci sono dei dobloni placati in vero oro e in vero argento, sempre accompagnati dal classico libretto illustrativo, e qua è da scavare, per cui munitevi del scalpello e martello.